Quindi sei tu il capo degli scopzi? Ho questo grande privilegio. Tutti credono che felicità si possa comprare. Individualismo, egoismo, non c'è altro. Non avrai niente finché non sono sicura che Reva sta bene. Si deve fidare. Non mi fido di nessuno. Allora per lui non c'è speranza. Aspetta. Mi serve un giorno. Solo un giorno. Il suo poliziotto non reggerebbe di più. Per curiosità, quant'è che viene una camera qua? Tanto per me, poco per persona ricca. Di là dove si va? L'ISPA. Petro massaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale. Cos'è una doccia emozionale? Monte, non siamo qui per prenotare una vacanza. Non si dimentica il suo posto. Chiedo scusa. Suo marito si riprenderà prima o poi. Quando ciò accadrà, crede che sarà contento di sapere che sua moglie ha mandato all'area anni di lavoro per un capriccio.